La fiera di agricoltura torna al parco fluviale dopo il successo dello scorso anno ed è un successo che in qualche modo è confermato dai numeri di quest'anno. Abbiamo avuto tantissime iscrizioni in più, sono nove le regioni rappresentate in fiera, quindi che diventa una caratteristica sempre più nazionale. Abbiamo circa 20 espositori in più rispetto allo scorso anno, superando i 200 stand tra gazebo e mezzi attrezzati. Questo significa che la fiera sta crescendo, sta crescendo in maniera esponenziale. Abbiamo potenziato anche l'area dei mezzi agricoli, che era un'area che stava quasi morendo nel 2018 perché c'era poco interesse e quest'anno abbiamo espositori che provengono anche da altre province. Abbiamo potenziato l'area no gastronomica, abbiamo potenziato l'area dei produttori. Quindi è una fiera che è in piena salute, che ha i conti in positivo e che continua a crescere. Ed è un po' segue il progetto che ci eravamo prefissati, quella di portare la fiera regionale abruzzese a un livello nazionale. Il comitato fiera tra l'altro si allarga, ha sempre nuovi soggetti all'interno, quindi cresce anche proprio la squadra che sostiene la fiera dell'agricoltura e con la squadra cresce anche tutta la parte della convegnistica che ha sempre di più una connotazione legata alle aziende, alle degustazioni del territorio, a una conoscenza vera di quelle che sono le eccellenze, soprattutto del territorio terramano in questo caso, ma anche del territorio regionale, con un occhio di riguardo per il vino, che è tornato con forza in fiera attraverso il consorzio, attraverso le associazioni di sommelier e tanti altri prodotti che comunque verranno esposti anche quest'anno. Fiera ma anche spettacoli? Fiera ma anche spettacoli, come sempre, con la nostra musica tradizionale, soprattutto il saltarello, ma tutto ciò che è possibile in qualche modo legare alla nostra tradizione musicale. Quest'anno l'area del palco è situata in un'altra zona, accanto al campo sportivo, al campetto sportivo dello Smeraldo, proprio per incentivare anche il passaggio su quell'area, che è un'area comunque molto importante perché è l'area dei mezzi agricoli.